10 aprile 2020, giornata storica da segnare sul calendario per me e per la mia agenzia di marketing territoriale denominata Land Explorer. Perché? Perché sbarchiamo on air, cioè creiamo il podcast di Land Explorer che si chiamerà Land Explorer on Air. Non è un nome innovativissimo ma è importante arrivare a questo risultato, tanto che è da due anni che ci penso, ci ripenso, ci rifletto e alla fine mi sono convinto trovando una soluzione magari non bellissima a livello video ma ottima credo a livello audio. Infatti il podcast si basa solamente sull'audio. Perché questa scelta? Non che spariranno i video su YouTube, anzi verranno realizzati in combinata. Perché? Mi sono reso conto che spesso devo bloccare i miei telespettatori a guardare uno schermo per ascoltare ciò che racconto e ciò che succede quasi quotidianamente nel mio ufficio o quando sono in giro o quando sono in giro e racconto il perché è stato importante raggiungere il determinato congresso, convegno o perché sto facendo determinate attività. E dall'altra parte mi sono reso conto che spesso lo spettatore preferisce magari anche fare un'altra attività, cioè perché non pensare a un spettatore che ama farsi la corsetta e che proprio in quei 10-15 minuti di corsetta li deve tralasciare per ascoltare il sottoscritto. E allora ecco che l'idea di creare un vero e proprio audio di ciò che racconto doveva diventare importante. Per fare questo ci ha voluto un minimo di studio e soprattutto trovare la miglior modalità per creare questi audio che diventano una sorta di radio, di web radio per fare in modo che però io li possa realizzare in piena mobilità. Poiché tanto per fare un esempio da settembre a dicembre 2019 io ho girato ripetutamente Roma, Cosenza, Bergamo, Ferrara. Quindi diventa difficile riuscire ad avere un podcast pulito, quindi realizzato con i microfoni giusti, con le luci giuste, con gli editing audio perfetti. E quindi ho dovuto pensare una modalità che raggiungesse la piena autonomia rispetto anche a queste tipologie di situazioni. In più finalmente con l'audio potrò gestire anche meglio una delle iniziative che reputo più importanti e che purtroppo da qualche mese è ferma e cioè la possibilità di leggere e quindi consigliare anche delle letture da cui io ho imparato delle piccole tecniche oppure ho imparato delle cose assolutamente nuove e utili per comprendere meglio come gira il nostro mondo. E quindi un esempio di lettura che tra l'altro esula abbastanza dal principale tema che è quello del marketing ve lo presento fin da subito che si chiama, il libro si chiama The Game ed è il saggio di Alessandro Baricco. Perché Alessandro Baricco è importante? Perché fa in The Game un studio specifico dell'evoluzione del sistema digitale che tanto oggi ci viene in aiuto per risolvere tutte le problematiche che il coronavirus ci impone cioè il fatto di dover rimanere a casa, chiusi in casa e dobbiamo però continuare la nostra attività il più possibile lavorativa se è possibile utilizzare sistemi di smart working e telelavoro e dall'altra parte anche poter ad esempio insegnare quindi smart learning e quello che racconta Alessandro Baricco ad esempio prendo l'idea del telefono in particolare dell'iPhone che è molto complicato come giustamente racconta Baricco nella presentazione del 2007 del nuovo iPhone portato avanti da Steve Jobs e si apriva un mondo dice Baricco al solo tocco di una app e quindi il sistema era assolutamente semplice pulito da un punto di vista di design ma complicato da un punto di vista di raggiungere l'obiettivo di questa semplicità quindi impariamo ad esempio anche solo da queste poche parole che semplice non vuol dire facile un altro libro che a breve vi racconterò è Food & Wine Marketing 4.0 qui invece ritorniamo al tema principale di marketing che è quello della possibilità di utilizzare delle tecniche di marketing e di comunicazione che si adattano in particolare al segmento food bene finito questo grosso preambolo che mi pareva utile da raccontare perché effettivamente per me è una novità importantissima che vi porto e che spero vi possa essere utile torniamo però alla concretezza è alla concretezza e vi parlo di una delle cose che sta capitando in questo periodo in ufficio come sempre e cioè il fatto che essere bloccato dal coronavirus e quindi a casa bloccato non sta però portando benefici anzi sta creando grossi problemi a un settore che è quello turistico e che oggi se vogliamo è bloccato da un punto di vista legislativo infatti l'impossibilità di muoversi se non per comprovati motivi per una persona vuol dire bloccare il viaggio di piacere che è alla base del fenomeno turistico bene il turismo ovviamente sta reagendo sta cercando di ripensare di rivedere anche le sue modalità con cui veniva erogato il turismo pensiamo ad esempio all'idea degli alberghi all'idea delle esperienze che sono diventate sempre più importanti in questi anni ebbene pensare come mi è capitato di vedere proprio ieri in un webinar pomeridiano all'idea ad esempio del trekking come del cammino esperienziale di trasformazione della persona diventa una modalità assolutamente innovativa diversa da un punto di vista proprio concettuale non è più la scampagnata, la camminata su un sentiero ma diventa una camminata interiore una camminata che diventa modalità per riflettere all'interno di noi stessi ed estrarre nuove modalità di affrontare la vita di tutti i giorni ecco esempi di questo tipo ci mettono di fronte a un grande bivio che è quello di un turismo in grado di autosostenersi cioè diventare un turismo che spesso si dice sostenibile sostenibile per le generazioni future ma che deve essere in grado di trasformarsi internamente quindi uno dei grossi problemi di oggi è proprio questo quanto il turismo saprà vedere nel medio e lungo termine un cambiamento in grado di comprendere che ci sono anche le comunità locali e che spesso invece vengono messe un po' da parte dagli enti del turismo pubblici e privati perché è chiaro che avere una risorsa territoriale una bellezza, un monumento tutto quello che vi viene in mente in questo momento è utile per definire che cosa andrà a fare il turista una volta raggiunta la destinazione turistica dall'altra parte il residente ha l'assoluta necessità di affrontare un cambiamento che per lui è invece la routine quotidiana cioè il rapporto per meglio dire il rapporto che esiste tra turista e residente deve diventare più armonico non può essere conflittuale non lo dovrà essere perché questo va a danneggiare la stessa destinazione turistica e in questo entrano poi in gioco anche le modalità di esperienza cioè abbiamo fino ad adesso visto esperienze estremamente vere ed esperienze estremamente falsate esperienze legate al concetto di sicurezza perché ovviamente nessuno ha voglia di mettere a repentaglio la propria vita quando si va a fare una vacanza ma dall'altra parte il non provare un'esperienza vera trasforma tutto in una sorta di grosso Gardaland dove tutto è un po' concesso poiché alla fine l'idea che ne deve uscire di questa vacanza è un'idea positiva e deve essere un'idea che non prevede la possibilità che il turista sia scontento